Grazie a tutti Grazie a tutti Tanto dovresti vedere davanti Sì L'albergo di Ruto lo chiamano Il nome suo personale E Filippo, e Fesco, vieni qui Sei su Italia 1? Sì Che spettacolo Quando c'è l'autonomia? Sì L'ho firmato questa SD 1 ora e che qua Le batterie sono io una dentro e un'altra dentro lo zaino Oh yeah Veronica rimani più indietro possibile Perché non è tanto bello alla fine No, rimani indietro Non dà alla fine Perché lo sei legato? Un attimo, giro per me Qua, aspetta Sì 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 Cammina babbo? E chi la fa fan? E chi la fa fan da qua? E ora? In un TARARA da 2 ore E io vado da lì a 1 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 Non è anche il momento, voglio dire Questa è da Leroghe Questa è da Leroghe Vediamo Comunque ci giriamo abbiamo Esatto Sì, questa è quella fisciatura Sì Non è un gnocco Guarda che loro ci sono indebitati Ma dove l'hanno stanno facendo? Cioè tra le vane riboccate Sto sperando la fatta Ma certo, io ti chiedi a quel ladrino Ma che spettacolo, prima ci siamo speso 20 anni lì a fare piffe Adesso ci faici per di loro perché arriva tutto pronto, tutto a posto Come vedete la situazione? Beauty is not Tu non ne la fai più, vero? Non è un problema anche professionale Secondo me c'è stato qualcosa di insoluto Perché ti ripeto, dentro al bar c'era la raccolta firme e ci stavano un po' di voci Mi sono messo un po' a legge Sì, però se tu non fai sempre una cosa se tu non fai sempre una cosa infatti questa era una delle obiezioni che gli facesse la raccolta firme Allora funzionava un gas e ti paga che blocca? A tua scena Perché uno che non già voglia dei gommati non abbigliavene su No, ma guarda che prima tutti qua si passavano assolutamente Cioè, giusto quando c'era la nera l'inverno che questa è la fraterma o che questa è la manutenzione no, ci hanno chiuso un'attenzione 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 Rifugio Franchetti Sì 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 Un'attenzione 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 Grazie a tutti 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 Quattro Grazie a tutti Ok, il signore. Ma sai che è come dopo che ci scappa, perché veramente la tetra è veramente... Ma boh, li lasci i bassoli. No, no, tranquilla, tranquilla, tranquilla. Alla prossima. Grazie a tutti Busci ora sei online Cerco di raggiungere la cupa Buongiorno Resto Vieni Resto Buongiorno Buongiorno Quanto le chiavi della macchina ce le ho io Buongiorno 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 è fio, che fai che fai fio, 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 che fio fio, che fio fio, che fio fio, che fio, che fio fio, che fio, che fio fio, che fio, che fio, che fio 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 fio, che fio, che fio fio, che 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 f Ciao E vabbè vabbè la muserola è sempre vera di calambara a portà ma alfino io mi ho detto che non la portano ma la sà portà che ti può sempre servire per qualsiasi cosa Se si vuole in gula va C'è il telefono Dipende da che tipo di infortunio hai già avuto Eh ma di solito se non si vede un tesserato da qualche parte Si? Si 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 Si